Musica Bella a tutti ragazzi del GTF clan, io sono GTF Medino e bentornati qua sul nostro canale con questa nuova impresa, questo nuovo record europeo effettuato da me Infatti sono gasatissimo oggi di portarvelo davvero contentissimo, si tratta del Nuclear Sudet Match più veloce d'Europa E peraltro è effettuato anche in solo e appunto in 111 secondi, dovete rendervi conto che fare un Nuclear in 111 secondi è già molto difficile Guardate anche vecchi video sul canale che avete visto, Nuclear in solo in 110 secondi, cose simili E pensate che l'ho fatto Sudet Match senza gli spawn fissi, senza appunto una bandiera, bensì cercando i nemici a caso per la mappa Ovviamente questi ultimi non erano davvero niente di che, erano dei nemici abbastanza nabbi ma questi ci vogliono per fare cose del genere Sudet Match Ma vi giuro raga che dopo averlo fatto sono andato a vedere nel cinema e ho davvero sbroccato di brutto contentissimo Perché dovete capire che era tipo il settimo ottavo Nuclear che facevo quella mattina, tutti sotto i 3 minuti, tutti che per pochissimi secondi andavano a sfiorare il record dei TNT Che apparteneva a TNT Dark in 2 minuti e... no, sì, in 2 minuti e 18 secondi, in 138 secondi, avevo appena fatto quello in 143 secondi, in 2 minuti e 23 per pochissimo Ho detto beh, non ce la faccio più, faccio l'ultima, 111 secondi Quindi ragazzi passate anche sul mio canale, ultimamente sto caricando tantissimi video su Sudet Match, su Black Ops 2 Sto facendo tantissimi gameplay, davvero una cosa che mi sta piacendo tantissimo Vabbè, comunque alla fine non apparirà neanche il simboletto del Nuclear perché ci saranno troppe uccisioni Comunque il video si stopperà la trentesima uccisione, potrete contarle se volete, se volete, se volete E niente, la classe era una N con caricatore rapido, calcio e regolabile Comunque ragazzi, qua il video è già giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, passate dal mio canale Iscrivetevi a quello del JTF Clan e fate un salto sulla pagina Facebook che come sempre trovate in descrizione Quindi ragazzi, un saluto da JTF Medino, per oggi da me è tutto, bene ragazzi La ciolla qui sembra un bazzucca nella tuta Minchia tu Non ti piace il JTF? Minchia Minchia ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi passare